Hola hola! Torniamo a novembre e torniamo alle routine monomarchio, alla playlist che stavo facendo del routine monomarchio. Questa settimana tocca a mi amo, al marchio mi amo. Subito il video! Bentornati, bentrovati, ben arrivati a tutti quelli che state guardando questo mio video per chi non mi conosce, mi presento perché altrimenti poi mi dimentico. Io sono Luis Campos, sono il dottor Luis Campos, sono un medico, sono un chirurgo, mi occupo di medicina e chirurgia estetica. Vi parlo da casa mia qua a Milano, città dove vivo, città dove lavoro. Tutta la mia attività professionale la svolgo qua a Milano e in questo mio canale di YouTube, se non mi conoscete, vi parlo tutte le settimane di skin care, di cura della pelle, di quello che voi potete fare a casa, come io qua a casa mia, vi apro le porte di casa mia, tutto quello che voi potete fare a casa vostra per mantenere la pelle più giovane, per rallentare l'invecchiamento, per rimuovere qualche inestetismo della pelle. Per tutto quello che sia più la medicina estetica, la chirurgia estetica, quello che faccio in studio medico, quello che faccio in sala operatoria, vi consiglio di andare sul mio Instagram, lì condivido quei tipi di contenuti, anche questi di skin care, e se volete vedere quello che, come me, mischio tutti i prodotti, come li provo, le routine che io mi faccio al mattino o alla sera nel mio TikTok, lo potete anche vedere. E se vi piace questo contenuto, questo video qua sotto, vi potete iscrivere al mio canale e fare un like se questo video vi è piaciuto. E stavo facendo, durante il mese di ottobre ho smesso di fare questa cosa della routine monomarchio, mi ero concentrato un pochettino sull'oncologia perché era il mese dell'oncologia. Adesso torniamo alla normalità, ho lasciato quell'argomento dell'oncologia che ho dedicato quasi tutto ottobre a quello, e torno alle routine monomarchio. Sapete che avevo scelto diversi marchi, ancora li sto scegliendo, quelli che trovate più facilmente in farmacia, in profumeria, e vi dicevo quali sono i prodotti che, secondo me, sono i più validi di ogni marchio. Di modo che se voi arrivate alla farmacia, se arrivate alla profumeria, e non sapete cosa potete scegliere o volete scegliere, almeno avete le dritte per poter costruire una routine completa di skin care con solamente un marchio. Ci sono tanti marchi nel mercato, e me lo state dicendo, cosa dici di questo? Perché non lo fai di questo? Ci sono marchi che hanno pochi prodotti, e che quindi costruire una routine di skin care completa è molto difficile perché non hanno tanti prodotti. Quindi ho favorito sicuramente i prodotti, i marchi che hanno diversi prodotti con i quali io posso costruire tutta la routine. E questo mese vi parlo di Mi Amo, marchio italiano con tantissimi prodotti, tantissime referenze, ma io ho scelto un pochettino, non vi posso parlare di tutti. Ottimo marchio, ottima qualità, ma non vi posso parlare di tutti. Cominciamo con la detersione. Io come detergente vi consiglio tre detergenti che hanno. Questo a base di rosa, molto delicato, il Gentle Rose, è un gel che crea una leggera schiuma, serve benissimo per estrucarsi, serve benissimo per rimuovere il trucco, per rimuovere il sudore, per rimuovere la protezione solare. Lo potete utilizzare tanto al mattino come alla sera, e va benissimo per qualsiasi tipo di pelle. Tu avvi una pelle secca, una pelle mista, una pelle grassa, una pelle delicata, lo potete utilizzare tutti. Io preferisco utilizzarlo al mattino o come prima detersione della sera, ok? Alla sera ho scelto sempre questo, il Gentle Rose, che va benissimo, ma ci sono altri due che mi piacciono tantissimo. Se tu hai una pelle resistente, se hai una pelle a tendenza grassa, ok? Puoi utilizzare come primo passaggio della detersione, sapete che a me di sera mi piace la doppia detersione, come primo passaggio puoi utilizzare questo, il Gentle Rose, di questo che vi parlavo, e come secondo passaggio potresti utilizzare questo altro, che a base di acidi, alfa idrossi acidi e beta idrossi acidi. Quindi avendo gli alfa idrossi acidi e i beta idrossi acidi andrà a rimuovere le cellule morte, a pulire il poro in profondità e quindi a stimolare la ricrescita di nuove cellule, la rigenerazione della superficie cutanea, la rigenerazione delle cellule che vadano a cambiare, aumentare il turnover della pelle, di modo che la pelle sia più luminosa, più compatta e molto leggero, nel senso non ha una grande quantità, una grande percentuale di alfa idrossi acidi o di beta idrossi acidi, al punto che incluso una pelle sensibile lo potrebbe utilizzare. Non ve lo consiglio sicuramente tutte le sere se la tua pelle è sensibile, ma forse due o tre volte alla settimana lo potresti utilizzare. Se invece hai una pelle molto 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 sensibile potresti utilizzare come primo passaggio l'acqua micelare di Miamo, che è molto leggera, molto dolce con la pelle e quindi se tu hai una pelle sensibile ti va benissimo e come secondo passaggio potresti utilizzare il Gentle Rose, che va sempre a pulirti in profondità e quindi con uno o con l'altro riesci a pulire bene bene tutto il tuo viso. Adesso mi fermo e vado al secondo passaggio per completare bene la pulizia alla sera. Se volete fare un peeling alla sera, Miamo ha due peeling che a me piacciono tantissimo, ce ne sono altri, ma mi piacciono specialmente questi due. Questo, che è il peeling enzimatico di Miamo a base di papaina e altri ingredienti, ok? Ne ha tantissimi ingredienti, è un gel che crea una schiuma, lo applicate sul viso, lo lasciate reagire per qualche minuto e poi si sciacqua. Va benissimo per qualsiasi tipo di pelle, incluso se tu hai una pelle sensibile, una pelle che si arrossa facilmente e vuoi fare un peeling per rimuovere le cellule morte, per stimolare la ricrescita del collagene, per togliere un pochettino quelle rughe piccoline o incluso qualche macchia, il peeling enzimatico è il peeling che tu devi utilizzare. E questo di Miamo ti può andare perfetto, ok? Ah, c'è un altro peeling che loro hanno, che è questo con 25% di acidi, è il Renewal Peel, che mi piace tantissimo, nella confezione vengono 8 tubicini. È vero che quando vai in farmacia dici, caspita costicchia tanto, ma se pensate che gli 8 tubicini ti durano, ogni tubo ti dà per fare 2-3 peeling, ti può durare tantissimo, a me mi è durato tanto. E questo è un mix di acidi, di alfa idrossiacidi, beta idrossiacidi, dove c'è il mandelico, dove c'è il fitico, dove c'è il gluconolactone, che vanno a fare sempre un peeling molto leggero. Non è l'enzimatico, ok? E contiene acidi, quindi sempre uno step in più. Ed è più pensato per la rimozione delle macchie, la rimozione degli effetti del fotoimbecchiamento, quindi quelle macchie dovute al sole, quella pelle spenta, quel colorito spento, tanto per le pelle che sono resistenti come quelle che sono sensibili. Si applica un gel bianco trasparente, si applica, si lascia qualche minuto e poi si sciacqua con acqua. Tanto il peeling enzimatico come questo, Renewal Peel, lo potete fare, io consiglio, due, tre volte alla settimana, non di più. Va bene? Ci sono delle pelli resistenti che lo possono fare di più, ma penso che con due, tre volte alla settimana è più che sufficiente. Pensate che io tante volte lo consiglio solamente ai miei pazienti, lo consiglio solamente la domenica, di modo che la domenica ti fai una routine più complessa la sera di modo che vai a pulire bene con un buon peeling e poi a idratare con una buona maschera, ok? Come sieri, mi amo a tanta quantità, tanti sieri. Io ho scelto quattro, ce ne sono altri, ok? E sono un pochettino complessi se dovessi parlare di tutti, ma ho scelto quattro perché con quei quattro devo dire che vado a coprire più o meno tutte le necessità della pelle e tutti gli inestetismi della pelle. Primo che ho scelto, questo di vitamina C, vitamina C al 30%. Occhio, non è vitamina C pura, è un derivato della vitamina C, il 3-etil-O-ascorbic acid, si chiama così in biochimica, ok? E' una forma più stabile della vitamina C pura. Ma per ottenere gli stessi risultati che ti dà una vitamina C pura al 10 o un 15%, bisogna in formulazione aumentare la concentrazione fino a un 30%. La cosa positiva è che una forma più stabile è soprattutto che non crea irritazione. Incluso le peli sensibili che vogliono utilizzare la vitamina C possono utilizzare questo siero sicuramente che non troveranno nessuna irritazione sul viso. Comunque io per le peli sensibili sapete che mi piace tantissimo la vitamina E, ok? Un altro siero che loro hanno e che mi piace tanto è questo per trattare le macchie. Contiene l'acido tranexamico, contiene il 3-trapettide 30, contiene anche il proprio bionico, mi sembra che sia, se non ricordo male. Quindi contiene diversi ingredienti attivi che vanno a lavorare nella catena di formazione della melanina. Sapete che la melanina è il pigmento che dà colore alla pelle, che crea le macchie. Quindi tu per bloccare la formazione delle macchie non puoi utilizzare un solo ingrediente attivo. Se tu hai macchie con solamente un ingrediente attivo le puoi schiarire ma non le farai mai scomparire e mai riuscirai a schiarirle bene, bene, bene. Hai bisogno di un mix di ingredienti attivi che vadano a lavorare nelle diverse catene, nei diversi passaggi della formazione della melanina. Quindi dalla cellula che crea dalla melanina alla cellula che trasporta la melanina fino a dove ci sono i depositi di melanina. Quindi facendo un mix di ingredienti come lì a questo siero riesci a rimuovere le macchie. Poi c'è questo altro siero, l'Oil Control, specifico per le persone che hanno una pelle un po' grassa con sebo. Non è uno esfoliante ma contiene degli ingredienti tipo l'alga rosa o la sarcosina che vanno a regolare la quantità di sebo che crea la nostra pelle e quindi a dare, a opacizzare un pochettino la pelle. Quindi se la tua pelle è una pelle grassa e la vuoi opacizzare e vuoi controllare la quantità di sebo che crea la tua pelle questo è il tuo prodotto, il tuo siero. E ripeto, non va a fare un peeling o non va a irritare la pelle perché non sono ingredienti attivi pensati per quello. Sono ingredienti attivi pensati per la regolazione o regolamento, non regolazione che regolamento quello del codice della strada per regolare, per abbassare la quantità di sebo che produce la nostra pelle. E per ultimo ho scelto un altro che è questo, i peptidi che va molto bene per dare elasticità per dare compattezza alla pelle. Il mio consiglio è utilizzarlo nella fronte, nel contorno occhi perché i peptidi che contiene sono pensati soprattutto per fare un pseudo effetto botox di rilassamento della muscolatura. Quindi forse non lo andrei a utilizzare in questa zona del viso. In questa zona del viso loro hanno un altro siero al collagene che forse sarebbe più indicato per questa zona del viso. Mentre che questo siero con i peptidi con il 20% dei peptidi si mette... 6 peptidi? Ne ha 6, così, 6. Si mette in questa zona fronte, contorno occhi e la vela mettetelo al mattino che quando abbiamo più movimento del nostro viso e va benissimo per ridurre i segni dell'età e per ridurre le rughe. Va bene? E questi erano i sieri che vi volevo presentare. Quando li potete utilizzare? Li potete utilizzare al mattino, li potete utilizzare alla sera senza nessun problema. La vitamina C io consiglio sempre utilizzarla al mattino. I peptidi meglio al mattino questo tipo di peptidi, ok? Per quanto riguarda lo smacchiante per esempio potete utilizzare la vitamina C al mattino e il siero per le macchie alla sera di modo che la vitamina C vi va a controllare le macchie a togliere le macchie e anche questo siero alla sera va a completare quello che fa la vitamina C e state dando più ingredienti attivi alla vostra pelle. Se avete una pelle grassa una pelle unta potete utilizzare il siero per il sebo tanto al mattino come alla sera, ok? Ci sono altri sieri dentro la famiglia Miamo ma io ho scelto questi. Come ci sono tante creme idratanti nella famiglia Miamo quindi e tanto per la pelle sensibile come per la pelle che si arrossa per una pelle normale per una pelle grassa, eccetera io ho scelto una che penso va bene per tutti i tipi di pelle ed è questa la ristrutturante e la ristrutturi 24 ore perché ho scelto questa? Perché è un mix di antiossidanti come la vitamina C come la vitamina E come il resveratrollo come il tè verde come le squalene che serve per idratare c'è anche l'acido ialuronico e ci sono anche i peptidi quindi in una sola crema avete tutti gli ingredienti attivi che servono per migliorare la qualità della vostra pelle incluso se siete pigri e siete di quelli che non utilizzate i sieri che vi lavate il viso e poi mettete una crema e avete finito questa crema potrebbe fare benissimo per voi vi ricordo dopo di mettere la protezione solare perché questa non ha la protezione solare le creme di Miamo mi sembra ricordare che non contengono la protezione solare ma poi vi dico un trucco per mettere la protezione solare se invece sei di quelli come me che metti il siero l'acqua micellare la detersione il peeling fate tutti i passaggi della routine questa crema vi va anche bene perché va ad aggiungere altri ingredienti attivi per la cura della tua pelle e per migliorare gli effetti degli altri ingredienti e degli altri prodotti ok tanto al mattino come alla sera la potete utilizzare di giorno e di notte senza nessun problema l'altra crema che a me piace molto di loro è questa per le macchie che andrebbe a completare il siero per le macchie hanno diversi ingredienti attivi quindi se io voglio trattare un problema di macchie serio come può essere un melasma come può essere le macchie solari molto estese eccetera ho bisogno di tanti ingredienti attivi che mi vadano a bloccare come vi dicevo la produzione di melanina a diversi passaggi della catena di formazione della melanina e del deposito della melanina quindi se voglio completare quello che mi sta facendo il siero ho bisogno di questa crema che contiene il proresor cinolo e che contiene anche l'acido galico e anche la niacinamide quindi se il siero mi conteneva il tranexamico mi conteneva anche se non ricordo male il 3 trapetti di 30 questa crema mi va a complementare a completare quello che mi stava facendo il siero quindi perfettamente potete utilizzare tanto al mattino come alla sera prima il siero e dopo la crema se avete un problema forte di macchie o potete utilizzare al mattino la vitamina C e poi questa crema e alla sera utilizzare il siero e questa crema e va benissimo ok poi io sono amante del retinolo e lo sapete per me è la molecola più padre più meravigliosa più top per trattare le rughe per trattare i segni dell'invecchiamento quindi rughe macchie perdita di tono pori dilatati eccetera eccetera perdita di compattezza per stimolare il collagene il resveratrolo è la cosa migliore e loro hanno questa crema al retinolo ho detto al retinolo retinolo non confondiamo le cose il resveratrolo è un antiossidante il retinolo è l'antirrughe per eccellenza ok loro hanno questa crema al retinolo non hanno il siero al retinolo l'unico prodotto che hanno al retinolo mi amo è questo formulato all'1% qua mi lascia un dubbio avrei potuto chiarire con loro chiedere informazione eccetera ma non ho approfondito in Europa il regolamento è che non si può andare oltre al 0.3% di retinolo in un prodotto cosmetico ok quindi se loro nel loro claim stanno dicendo che ha un 1% immagino abbiano messo diversi tipi di retinolo non solamente il retinolo puro se no derivati del retinolo come può essere il retinile il palmitato eccetera di modo di raggiungere l'1% forse è quello ok io comunque vi dico l'ho utilizzata non mi è creata nessuna irritazione va bene che la mia pelle è abituata a utilizzare il retinolo l'ho trovata molto delicata quindi penso che incluso se stai iniziando con il retinolo la potresti utilizzare il mio consiglio quello la potresti utilizzare non la utilizzerei tutti i giorni inizierei con un giorno alla settimana per un mese due giorni alla settimana per un altro mese tre giorni alla settimana per un altro mese sempre 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 alla sera non metterla al mattino mi raccomando al mattino potete mettere l'altra crema idratante che conteneva di tutto ed è meravigliosa e per finire volevo parlare della protezione solare mi amo non ha creme ancora con la protezione solare ha delle voccettine di gocce con la protezione solare gocce che si aggiungono alla crema idratante per dare alla crema idratante la protezione solare per me la protezione solare in gocce può essere un'idea spettacolare meravigliosa forse per l'inverno va bene forse per quando non c'è tanto sole va bene mi lascia un dubbio per l'estate e vi dico perché perché per garantire la protezione solare l'ho detto in altri miei video ci deve essere una concentrazione sufficiente di protettore solare che vada a creare completamente un schermo di protezione solare nel nostro viso se non applichiamo la quantità sufficiente per creare quell'eschermo solare la nostra pelle non è completamente protetta quindi se noi andiamo applicare poca crema solare come se andiamo a mettere poche gocce di questa protezione solare nella crema se non la andiamo a mischiare bene se non la andiamo a spalmare bene possiamo avere delle zone che sono più protette e delle zone del nostro viso che sono meno protette quindi la protezione solare in gocce a me ancora mi lascia un pochettino perplesso per una persona attenta alla sua routine di skin care che si prende la crema di idratante e mette dentro 5-6 gocce in base a quello che consiglia ogni prodotto e che poi sa mischiarlo bene e distribuirlo bene e questo che sto dicendo sembra una cretinata ma è così ci sono persone che non fanno caso mischiano velocemente spalmano velocemente senza spalmarlo bene sul viso e questo è una realtà potrebbe succedere che ci sono delle zone che non sono protette e quindi creare una farsa sensazione di essere protetto senza realmente essere protetto contro il sole quindi la protezione solare scusate la protezione solare in gocce ancora ho certi dubbi forse l'applicherei come un'aggiunta alla crema alla crema idratante e forse dopo applicherei un fondotinta con protezione solare o una bb cream con protezione solare di modo che così sono sicuro che vado a completare la protezione solare e che tutto il mio viso è completamente protetto contro il sole va bene questo era tutto quello che io volevo dirvi sul marchio mi amo come vi dicevo ci sono altri prodotti ce ne sono tanti nella loro famiglia di prodotti questi erano quelli che io vi volevo presentare quelli che io ho provato direttamente e con i quali mi sono trovato bene quelli che ho visto anche in formulazione sono fatti bene e con questi voi potete creare la vostra routine tanto di mattina come di sera più o meno con i passaggi che vi ho detto in base alla vostra problematica una pelle sensibile una pelle ci sono altri prodotti per fare una routine molto più corposa in base a ogni tipologia di pelle o a ogni tipologia di problematica della pelle comunque se volete sapere qualcosa in più qua sotto sapete che mi potete lasciare i vostri commenti le vostre domande eccetera che io cerco di rispondere a tutto adesso sono un pochettino in ritardo ma vediamo se adesso in questi giorni mi metto il turbo e vi rispondo se volete mi potete lasciare un like se volete vi potete iscrivere mi potete seguire su instagram mi potete seguire su tiktok mi potete seguire o non seguire la questione è che io il giovedì prossimo continuerò ad esserci qua per raccontare tutti i trucchi sulla skin care e sulla dermocosmetica e come curare la pelle del viso a casa vostra per ottenere i migliori risultati vi saluto e come sempre vi ringrazio perché questo canale senza di voi non ha assolutamente nessun senso grazie di esserci ciao 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 ciao